Ben tornati a tutti. Oggi è mercoledì, 25 ottobre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Segno fortunato. Facile per tutti, viaggiatori e pantofolai. Giornata facile per tutti, per chi è in viaggio impegnato a trattare affari o a sostituire un collega assente o è per chi è a casa a curare faccende personali lasciate in sospeso. Qualunque sia la vostra giornata, con la luna nettoniana e Saturno intrigono al vostro segno, spenderete sicuramente bene il vostro tempo, all'insegna della logica e degli ideali condivisi. L'amicizia ancor più dell'amore è la bandiera da tenere alta, senza complicità, infatti, anche la coppia fa acqua, mentre il lavoro perde coesione e mordente. Attenzione particolare per i vostri ragazzi, bravi a scuola ed eccellenti nello sport, ma portati a sgomitare, frenateli, non ci si mette in luce schiacciando gli altri, la grinta di Marte che ora lì carica andrà modulata dall'intelligenza di Mercurio e dalla sincerità del Sole, tutti favorevoli, a voi e a loro. Freddezza nei sentimenti, un periodo in cui, a causa di basi povere di sentimento e amore, il vostro rapporto potrebbe risentirne. Aridità sentimentale e vuoti di affetto frequenti. Consigli sbagliati ricevuti o che si riceveranno. Qualcuno vorrà darvi dei consigli ad ogni costo, molti dei quali completamente sbagliati. Una persona che incontrerete non sarà molto sincera con voi, abbiate cura di non farlie o pesare troppo e tirate diritto. Badate bene con chi vi confidate, soprattutto oggi sarà meglio evitare di farlo, soprattutto se non avete una profonda e indistruttibile fiducia nei vostri confidenti. Stai attraversando un periodo di salute eccellente, nuovi affari e piccole entrate di denaro in vista. Anche dal punto di vista del fascino non puoi lamentarti. Devi solo limitare il pessimismo che a volte ti avvolge. Discussioni in famiglia. Non cercare di imporre con la forza le tue idee. Sarai dispersivo. Metti al primo posto le cose da fare più importanti. Oggi Giove favorirà il vostro spirito d'iniziativa e rimarcherà le occasioni giuste dalle quali trarrete successi davvero insperati. Ponete attenzione alle nuove conoscenze che potreste fare, tra queste potrebbe esserci realmente le persone della vostra vita. Sarà meglio che iniziate a pensare di mettere da parte qualche pissola somma che potrebbe rivelarsi utile, invece di chiedere un finanziamento o un prestito potreste pensare di risparmiare di più in modo da avere a disposizione le somme giuste al momento giusto. Oggi potreste arrivare tardi a lavoro o a un appuntamento di lavoro. Cercate di anticiparvi e se proprio capita. Cercate di mitigare il danno. Non a caso oggi la Luna cercherà di contrastare il positivo influsso di Giove, fate dunque tutto con tanto buonsenso per cercare di raccogliere i frutti fin da oggi. Oggi la comunicazione è resa complicata da Mercurio che vi osteggerà in tutto, potrebbero anche nascere dei malintesi importanti. La Luna in pesci, signora del vostro segno, transitando positiva, vi renderà mentalmente freschi oggi, contribuendo a un clima rilassato e affettuoso nei diversi ambienti dove vi muoverete, da quello professionale a quello familiare, dalle conoscenze occasionali al gruppo degli amici fidati. Marte Scorpione Benefico promette novità che toccano la sfera sociale e mondana. Per il fitness vi ritemprate più che in palestra nella quiete della vostra dimora, davanti a un libro avvincente o un film imperdibile. Ricordatevi, però, che il vostro fisico ha bisogno di moto quotidianamente e ogni tanto dovete trovare il tempo per farlo. Sinfonia di trigoni acquatici per voi, idealisti e sognatori, fa testo la coppia Luna-Saturno, una combina di logica e intuito, nel segno amico dei pesci, acquatico come il vostro, così come acquatico è lo Scorpione, che ospita il Sole, Mercurio e Marte, tutti abbracciati a vostro favore. Amore ed Eros. Forti passioni nel cuore, senza paura alcuna di manifestarle, credetene la forza dei sentimenti e insegante sia al parte sia ai figli ad amare senza riserve, comunque vadano le cose l'amore infonde energia positiva e come un boomerang riporta verso di voi emozioni felici. Parter planetario quasi tutto per voi. La Luna è positiva e Plutone negativo, è possibile che, pur nella piacevole intesa emotiva col partner, vi possiate sentire non completamente apprezzati come vorreste. Adottate un atteggiamento più razionale e badate alla solidità dei sentimenti. Exploit erotici per i nati in giugno. Lavoro e denaro. Clima insolitamente rilassato, in ufficio fate ciò che vi compete, svolgendo, se occorre, anche il ruolo di altri. L'obiettivo, però, non è farsi belli agli occhi del capo, è l'agenda straordinariamente a darvi la spinta, concentrare tutte le incombenze urgenti di questa per poi godersi il ponte della prossima senza pensieri. Giornata di intensa attività, lavoro che accoglierete con entusiasmo, riuscendo a portarvi avanti anche in quelle che saranno le scadenze future, specie se siete liberi professionisti. I rapporti con i colleghi e i collaboratori sono improntati alla cooperazione e, con alcuni, anche all'affetto. Mercurio favorevole fa sì che riusciate a concludere tutto nei tempi e con le richieste che vi sono state fatte. Benessere. L'acqua, il vostro elemento, è anche la medicina più apprezzata. Se abitate vicino a uno stabilimento termale tenete duro ancora per qualche giorno, poi anche il fisico avrà la sua razione di coccole. La salute ci guadagna, in particolare fegato, reni, pelle sul piano fisico, equilibri energetico e armonia sottile su quello sottile. Denaro. Con la luna pesci e giove toro, entrambi nei rispettivi segni di elezione e ben messi col cancro, potete senz'altro tentare la fortuna e proiettarvi all'otto, alla schedina, al gratta e vinci. Per lei, la settimana è iniziata da poco, ma già pensate al weekend e non uno qualunque, se avete preso ferie non sarà un ponte qualunque, da casa vostra scivolerete direttamente in terra celtica, a celebrare un Samai immemorabile, girotondo con druidi, guerrieri e folletti. Per lui, progetto di vacanza tra amici, da qui a una settimana sarete in una città d'arte, meglio a tema, con le brume novembrine, come la magica Praga o la misteriosa Istanbul. Colore delle emozioni, azzurro. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 8, benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.